Guardiamo una realizzazione di Jigoku Jime da una posizione di controllo di Kuzureke Zagatame. Una cosa va premessa, che se ho un buon controllo in Kuzureke Zagatame, la tengo e non risco niente. È chiaro che l'azione sarà bene farla quando il mio controllo diventa precario. Per cui è divenuto precario, comincio a lavorare sul suo braccio, quindi lo chiudo a me. Dopodiché il mio braccio va a prendere il bavero, il mio braccio si distende, non tengo il gomito così, ma il braccio si distende. Passo velocemente e realizzo il mio Jigoku Jime. Potete provare. Fatto.